Ciao, creatura, io sono Ecate Splendente e benvenuta, bentornata, nel regno di Guzai, E-S-M-R Nuovo Super Haul Unboxing di acquisti fatti su Shein, volevo dirti, creatura, che mi piacerebbe fare in modo un po' più professionale i miei haul, nel senso che mi piacerebbe mettere in descrizione i prodotti acquistati, giustamente il vicino deve aprire l'acqua adesso e forse il caffè, aprire le finestre e tutto, le persiane. E anche se non è una collaborazione, però mi piace l'idea di mettere sotto magari il link, che io volevo sempre fare, ma mi dimentico sempre. Top, ecco a te, che bella la tua memoria e quindi mi piacerebbe appunto mettere, adesso vedo se riesco a mettere il link o se riesco a mettere il codice, anche se di un oggetto non lo metto, perché negli altri haul qualcuno mi aveva chiesto mi puoi dire quello, come si chiama, cosa è scritto per trovarlo, oppure il codice, eccetera, eccetera. E dopo devo sempre, per messaggio, speratamente scriverlo, invece così trovi tutto in descrizione e via. Però appunto di una cosa non voglio mettere, anzi di due cose non lo metterò, perché così se mi vuoi copiare ti devi dare una mossa, te la devi studiare, te la devi cercare tu, anche se poi non è così difficile, però un minimo almeno, tanto vengo sempre copiata e mai citata, almeno ti fai una piccola ricerca, ecco. Dopo vedrai di cosa parlo. Ok, allora, ci sarà uno spoiler anche in questo video, di futuri video che vedrai, che sono sicura sarai super contenta di rivedere. Beh, basta, abbiamo già parlato anche troppo, vero Roberta? Ok, allora andiamo all'unboxing. Ti dirò attraverso l'app che ho qui di Shein quanto costava e quanto sconto e quanto l'ho pagato io, perché avevo 800 punti, no? Sì, 800 mi pare punti. Quindi circa 8 euro di sconto, perché appunto se si entra dentro l'app ogni giorno e si fa il check-in, ti danno dei punti e io lo faccio ogni giorno, quindi accumulo, accumulo, accumulo e poi acquisto. Bisogna farsi furbi nella vita. Ok, ok, andiamo. Pesco random, non c'è un ordine preciso. È quello che sento dal sacchetto che acchiappo. Lo vediamo. Ho preso questa mini luce, una luce clip per leggere di notte, perché mi piace di più leggere a letto prima di dormire e invece di rimbambirmi sempre con il telefono volevo appunto leggere a letto, solo che non ho una lucetta piccola e mi scoccia a tenere la luce grande accesa e quindi ho visto che c'era... non si poteva scegliere il colore, infatti ho beccato quella rosa. Pareva ci fosse bianco, azzurro, non so. Comunque questo l'ho... vabbè non lo so, so chiaro. Allora, costava... ah, sì, si poteva scegliere tra luce bianca o luce gialla. La luce bianca era terminata, quindi per forza ho dovuto prendere la luce gialla. Però penso che in teoria quella gialla serva per non rovinare la vista, anche se la mia già andava... vabbè... Questa costava due euro, ma io l'ho pagata un euro e cinquantuno. Ma che inquadratura ho fatto? Sparisco. E un euro e cinquantuno e... eccola qui. Cioè, dice che ci sono già le batterie all'interno, andrei già ad aprirle per vedere. Sì, funziona. Ok, funziona. È carina perché sembra proprio una piccola lampada. Cioè, è carinissima, molto estetic, devo dire. La pinzi sul libro e ti fa luce dove devi leggere. Cioè, penso che siano le... Tutte fatte così su... La userò subito questa sera. Guarda, com'è estetica, è super cute. Fa un suono strano. Boh. Comunque funziona, l'importante è quello. Non mi piace tanto che sia rosa. E la luce era volevo bianca, ma era finita. Quindi, accontentiamoci per un euro e cinquantuno. Cosa ho preso? Mi è arrivato dentro questa scatola. Marroncina, un po' scassata. Cioè, non ho idea di cosa contenga. Sì, sono acquisti che ho fatto io, però... Tra tutte le cose che ho preso, non so cosa potrebbe esserci qui. Adesso ho capito. E giustamente l'hanno messo in una scatola, così è arrivato bello protetto. Allora, piccolo indizio. Questo è un... Un pezzo di stoffa, diciamo, per pulire gli occhiali. Allora, sai che io ho gli occhiali da vista quasi da un anno? Anche se sono dalla nascita, ne avrei avuto bisogno dalla nascita, ma i dettagli lasciamo perdere. E allora, quando guido in estate, con questi occhiali, ho il sole che mi riflette in faccia e non vedo nulla. Però, se provo a mettermi gli occhiali da sole normali, non vedo niente. Però, attualmente non posso permettermi di farmi gli occhiali da sole con questi denti qua. Quindi, adesso, per provare, per adesso, prima di potermi permettere anche gli occhiali da sole, da vista, ho comprato questi. Che mi piace, arrivano anche, oltre che la scatola di cartoncino, che in teoria dovrebbe proteggerli, arrivano anche all'interno di questa confezione di plastica. Ah, ok, si apre così. Sono degli occhiali da sole, diciamo, solo alle lenti, con una clip. E vanno, non so se si vede, c'è la clip qua. E vanno clippati sopra gli occhiali, io spero che comprano, perché... Immaginavo che sarebbe successo questa cosa. Ovvero che i miei occhiali sono... Eh, non riesco... Aspetta, li clipiamo. Cioè, c'è un loro robocop. Pensavo che coprissero meno, e i miei uscissero un sacco. Invece, cioè... A parte la forma che è inguardabile, è un loro robocop top. Però, a parte questo, funzionano, cioè stanno fermi, e non danno fastidio. Adesso dovrò provare a guidare con questi, perché li ho presi solo per guidare. O anche, magari, per andare in giro, o nelle giornate di sole. Adesso sono arrivate questa settimana, che c'è pioggia e lufoloso. Vabbè, però, finalmente, posso avere anch'io qualcosa che protegge i miei occhi dal sole. Perché, fino adesso, non capivo, perché io mi prendevo gli occhiali dal sole e non vedevo niente. Non vedevo niente. Adesso, poi, quando ho fatto la visita, ho capito perché non vedevo niente. Mi serveva la lente giusta. Quindi, io utilizzo la mia lente con davanti anche questa, diciamo, protezione, che è plastica pura. Però, perlomeno, vedo qualcosa, vedo fuoco. Mi piace perché sono fatti anche bene. Mi piace che sono arrivati anche con la loro confezione e anche con... Per il prezzo, perché adesso ti dico il prezzo, creatura. Sembrerò... Mi fa troppo ridere la mia faccia con questi occhiali. Mi piace che, per il prezzo, mi è arrivata la confezione, il pezzettino di stoffa per pulirli, insomma. Sì, perché solo i pezzettini di stoffa per pulirli su siti, così, costano solo 1,50 euro, 1 euro. E io ho pagato gli occhiali e tutte queste cose insieme costavano, già costavano poco. 2,76 euro e io li ho pagato 1,91 euro. Comunque ci clippano, vedi? Vedi che sono sporchissimi, c'è sta clip qua e qua, sulla lente hanno un gommino e così non rovinano la lente, non lo graffiano, sia davanti che dietro. Sì, è bello, sono fatti bello. Pensavo che uscisse tanto il mio occhiale, invece essendo nero, anche se esce, no? Ma sì, che se ne frega, tanto... Non li ho presi per la bellezza, li ho presi proprio per... Ma dai, adesso che luce? Non li ho presi per la bellezza, li ho presi appunto per la praticità che mi serviva qualcosa, che guidando non mi facesse accecare, perché ci sono delle volte che guido, o col tramonto, o comunque il sole sparato in faccia, non vedo niente. Lì rischio di investire qualcuno e non è il caso. Ma è stato un buon acquisto, lo vedremo poi dopo, quando avrò pulito gli occhiali e ci sarà una giornata di sole, li proverò. Mi piace che poi posso riporli qui dentro, quando non guido, cioè li tengo in macchina alla fine, li metto solo quando occorre. Mi piace che sono tutti pacchetti dentro un grosso pacco, e quindi è una sorpresa come ricevere tanti regali, anche se li ho pagati, però facciamo un'illusione. Anche a spoiler, non so se sono pronta a mostrarti questa cosa che ho comprato. Allora, dato che non si trovano più i bicchieri, quelli usa e getta non biodegradabili, almeno io non li ho più trovati, e se uso quelli più degradabili con la resina, spoiler, si sciolgono, almeno quelli del Lidl si sciolgono. Ho già fatta la brutta esperienza, che ho visto il bicchiere che si colodeva e tutta la resina che stava per uscire, e io ho fatto... No! Ecco, ho trovato in... Già costavano in sconto in più, li ho pagati anche meno. Dov'è? Eh sì, costavano 3,50 euro, e li ho pagati 1,99 euro, e ho trovato questo set, perché all'inizio avevo comprato le due cose separatamente, adesso ti mostro, poi ho visto che in realtà mi costava molto meno prendere i set. Ma dai, eh, cate davvero. Ho preso i bastoncini e le piccole... i piccoli contenitori con il beccuccio, che quindi si va bene a mischiare dentro la resina, c'è il vicino che sta facendo un casino, chiamiamolo, e averciarli dentro agli stampini mi sembrano un po' piccolini, però vabbè. Comunque io utilizzavo i bicchierini piccoli, quelli da caffè, quindi più o meno penso che siano grandi uguali. Vabbè, e però per la creazione credo, perché spoiler, ci saranno un sacco di tagli in sto video, perché c'è il vicino che sta strisciando qualsiasi cosa, wow, grazie. E comunque, spoiler, ho preso due stampi, perché tanto ormai ho visto, perché voglio ricominciare a fare creazioni in resina, a portarti video, e quindi mi servivano, avevo finito queste cose, già che dovevo fare un acquisto, dovevo ottenere la spedizione gratis. Ho detto, vabbè, prendiamo queste cose, che mi servono per la resina. Solo che ho preso uno stampo piccolo, per fare cose piccole, ma ho preso anche uno stampo per fare cose grandi, quindi magari lì mi servirà un contenitore più grande, ma ci pensarò quando sarà il momento, non preoccupiamoci adesso. Ma questo so già cos'è, non lo apro. E ovviamente, cosa fai? Ti prendi gli occhiali solo per te, quegli occhiali lì che poi qualcuno ti ruberà, mio papà che mi ruba le cose. E allora ho preso un paio identici anche per lui, e li ho pagati sempre uguali, costavano sempre 2,76 euro, li ho pagati 1,91 euro per il prezzo che li ho pagati, e li regalo, insomma. Che anche lui ha detto, ma tu con gli occhiali da sole come ci vedi, perché anche lui porta gli occhiali. E lui fa, non li metto mai perché appunto, e lui ha detto, beh proviamo, perché per 1,91 euro ci sta a provare. a fare questa cosa, se va bene, buono, se no, pazienza, cioè insomma, amici come prima, è che costavano tanto di più negli altri siti, ed erano sempre in plasticona così. Perché altrimenti avevo visto degli occhiali da sole che, grandi, che andavano inseriti dentro, cioè sopra, cioè, sia sopra quelli da vista, ma non è che si clipavano, li inserivi tipo così, quindi era proprio un doppio paio di occhiali uno dentro l'altro, e mi sembrava proprio poco pratico. Poi, sta roba gigante, cioè boh, questo qua mi sembra già più pratico, infatti effettivamente, al di là che sembro Robocop, non posso, quante volte fa impagno questo? Comunque, al di là appunto della forma che non è che potevo pretendere gli occhiali fichi, che avevo tutti gli occhiali fichi, tra l'altro, avevo tutti gli occhiali da sole fichi, ma non ci vedo niente, quindi era tutta roba un po' gotica. Allora, qua devo farti una premessa, per mostrarti questa cosa. Allora, tanto tempo fa, su Aliexpress, avevo acquistato dei braccialetti, quelli tipo da spiaggia, di fili colorati, c'erano tipo i lotti, che ti davano, non lo so, venti braccialetti a un euro, non lo so, non mi ricordo il prezzo, la quantità, comunque, arrivavano random, e ho detto, che belli per l'estate, a me piace mettere, adesso io ho questo qui, che ho fatto io, e questo qua, che avevo preso sempre su Aliexpress, già da una vita, ho la fortuna di avere, la fortuna, in questo caso, di avere i polsi molto sottili, e quindi anche se questo, non lo perdo, però in realtà posso sfilarlo, quindi mi ha durato tanto, e mi piace tanto, mi piacciono tanto i braccialetti così, ma quelli che mi piacevano ancora di più, poi insomma appunto ho preso questo lotto, mio papà, mio papà, pensa che a me regalano, tutti mi regalano le cose, o che non so, che le cose che mi prendo, non me le merito, non lo so, perché, mi li ha fatti sparire tutti, e iniziò a regalarli in giro, e io, papà, ok che ho preso l'otto, che ce ne sono tanti, ma sarebbero miei, se voglio regalarli io, ok, ma no che tu fai, sei quelli che fanno, i generosi con le cose degli altri, ecco questo mio papà, e quindi, sono spariti tutti, e adesso è venuto a chiedermi, ma quei braccialetti là, ho detto papà, non lo so, tu li hai iniziato a regalare a tutti, non è vero, vabbè, e viva le bugie, però, vedo che va di moda questa cosa, quindi, anche su youtube, quindi, ok, allora, cosa facciamo, inutile arrabbiarsi, no, perché arrabbiarsi, stiamo male solo noi, giusto, con queste persone, e allora, dato che, quando ero piccola, mi piacevano tantissimo, quei braccialetti, che, si chiamano, credo, brasiliani, portafortuna, una cosa del genere, che sono, beh, tanto dopo li vedi, sono quelli, tutti intrecciati, colorati, che, tu indossavi, sia, ai polsi, che alle caviglie, e quando si rompevano, in base a dove si rompevano, il colore, voleva dire qualcosa, poteva esprimere un desiderio, una cosa del genere, adesso non mi ricordo esattamente, però, so che avevano, all'inizio, li vendevano con, tipo, il giallo, la fortuna, il rosso, l'amore, verde, la speranza, non so, forse c'è scritto, ah sì, c'è scritto, portafortuna, brasiliani, rosso, amore, verde, speranza, azzurro, soldi, giallo, fortuna, blu, violetto, pace, bianco, libertà, vabbè, e quindi, niente, ok, sì, erano quelli, io so che quando si rompevano, avevamo la tradizione di esprimere un desiderio, comunque, non credo, non so chi si era inventata sta cosa, comunque, e che praticamente ti costavano, non so, 5.000 lire, te ne davano due, una cosa del genere, quindi diciamo, 2,50 euro all'uno, una cosa del genere, ecco, adesso non so se in piaggia, quanto te li mettono quelli, se ti fanno 1 euro, 50 centesimi, 2 euro, non ne ho idea, fatto sta che adesso posso anch'io, girare per le spiagge, a venderli, perché, ho trovato, sotto il, il set completo, che hanno sulle banche, mi fa troppo ridere sta cosa, perché lì, inizialmente, li avevo trovati su demo, e volevo comprarli lì, però poi mi sono accorta, che, non ti davano tutto, questo, te ne davano 24, te ne davano 24, e invece, allo stesso prezzo, ne ho trovati 100, credo siano 100, mi fa troppo ridere sta cosa, mi fa troppo ridere, e costavano 5 euro e 30, le ho pagate 3 euro e 61, 100 pezzi, braccialetto di corda, colorato fortunato, comunque, ti metto, ti metto il link, perché, c'è, c'è, fa troppo ridere sta cosa, è il sogno di ogni bambino, anni 90, perché io li volevo sempre, i miei non me li compravano, ma dai, e la tuta, ecca ti ha detto, piccola ecca, anzi, piccola Marta, perché, ero Marta, piccola Marta, non ti preoccupare, te li compro io, speng, mi fa troppo ridere, cioè, praticamente, veramente, potrei farli aprirla, girare veramente, con gli asciugamani, e vendere i braccialetti, spiaggia, è il mio futuro, quest'estate, se non mi assumono, e, farò questo, no, scherzo, no, me li tengo così, poi devo nasconderli, perché, ti pare, mio papà, avete 100, e inizia a darli via, come se non ci fossero domani, anche se, gli ho, gli fa, mi compri degli altri braccialetti, perché, appunto, non trova più quelli che ha regalato, chissà come mai, non li trova più, li hai dati a tutti, cioè, e allora, mi farà ridere, oggi, quando finirò il video, e tornerò a casa, dirgli, beh, ho comprato qualche braccialetto, e presentargli questo, poi, ovviamente, gliene darò tre, poi li nasconderò, perché se li trova, me li finisce tutti, e non è giusto, perché, già non me li hai comprati, quando ero piccolo, in più, me li devi anche, regalare, cioè, se voglio regalarli, regalo a chi voglio, io, infatti, pensavo anche di metterli, tipo, se ricomincio a fare la resina, dopo, dovrò disparvene, quindi, magari, o facciamo delle mystery bag, o, comprate qualcosa, e, magari, vi metto dentro, anche, uno o due braccialettini, ecco, ho pensato anche a quello, mi fa troppo ridere, comunque, che ho comprato tutta, mancherello, praticamente, non ti preoccupare, piccola Marta, mi prenderò io cura di te, e traumi, no? ah sì, non mi avete comprato, neanche un braccialetto, in spiaggia, tutti gli altri bambini, ce l'avevano, e io mi compro, tutto il seto, da grande, tiè, bene, dopo questa rivincita, finalmente, allora, avevo, comprato, tanto tempo fa, uno di questi spruzzini, lo usavo, per, dar da bere le piante, mio papà, l'ha usato, nel giro di due secondi, l'ha rotto, comunque, chi mi conosce, sa, che mio papà è così, perché, sembra una roba assurda, ma, vabbè, facciamo anche un acquisto, per la casa, ho fatto altri acquisti, per la casa, ti farò un video party, appena arrivano, tieniti pronto, ho trovato una cosa, che, volo, oltre ad avere una forma, molto estetica, anche un bel colore, grigio e verde, bellissimo, chissà, con i miei penarelli, sicuramente, troveremmo il nome, e l'ho pagato, anche poco, l'ho pagato, dov'è, costava 2 euro e 28, l'ho pagato 1 euro e 0,2, ed ha 450 ml, è vicino, si è messo a fare i pesi, perfetto, allora, non so se lo sai, credo di no, se mi segui sui GC, ho ereditato questo telefono, da un mio amico, che è un Samsung S20, è il Samsung S20, di nuovo un, e io la so, perché l'ha comprato nuovo, questo, la batteria non regge tanto, ma abbiamo scoperto, che regge, da di più, di il telefono, che stavo usando, che il telefono, che stavo usando, ha un microfono, che va malissimo, fa le foto, un po' così, invece, questo è, un signor telefono, perché all'epoca, quando l'ha comprato, l'ha pagato tanto, l'ha regalato, solo che, la cover sua, è un po', te la mostro, cioè, mi vergogno di, perché appena l'ho usato, davanti a, tipo, mia sorella, dicendo, che cover hai? Va bene, compro un'altra, mi è venuto incontro, Sheen, che ha sempre, Sheen ha un sacco di cover, ha pochi soldi, e allora, ho preso, costava, costava due euro, l'ho pagato, un euro e ventuno, e mi piace, perché aveva, il, il, il pop socket, integrato, cioè, ti vendevano la cover, e anche il pop socket, abbinato, diciamo, abbinato, la cover è tutta nera, era una cover semplice, nera, ho guardato, è perfetta, cioè, l'ho visto adesso, i fori sono, sono questi i fori, insomma, e poi, l'unica cosa, che si poteva scegliere, era, il disegno, sul pop socket, che, solo il pop socket, costava, sui tre euro, due, tre euro, e qua, tutto insieme, con, un euro e ventuno, ho scelto questo, perché, gli altri, non mi piacevano tanto, i soliti coricini, i soliti, i faccini, emoji, no, questo, questo è bello, visto che mi piace lo spazio, la galassia, li autostoppisti, ecco, e, eh, si, ho già detto il prezzo, ti metto anche di questo, tutto in descrizione, spero di ricordarmi, eh, perché, che potrebbe servire a qualcun altro, potremmo provare, provarlo subito, sì, perché io, a fare video e foto, mi trovo meglio col pop socket, ma non volevo appiccicarglielo sulla sua, e, e quindi ho detto, mi prendo una cover, cioè, una cover, io, mia, che la pago io, bella, bella, anche più, più rigida della sua, mi sembra che protegga anche meglio, e poi c'è, appunto, posso appiccicarci il pop socket, neanche a dirlo, è la sua, perfetta, coi pochini perfetti, perché, qua neanche aveva i pochini perfetti, aveva una finestrella rettangolare, invece qua, proprio tutti i forellini, perfetti, della sua misura, c'è il più adesivo, qua andrò a appiccicare, adesso devo capire bene, se lo voglio centrale, o un po' più in alto, che io ho fatto, ah, che bella, non avevo visto questo dettaglio, ovviamente, compri la cover per te, per il papà no, ovvio, ho preso anche per lui, lui, nera non c'era, è già tanto che, siccome è un boomer, allora lui vuole la cover, quella a portafoglio, solo che non le usa più nessuno, sono diventate introvabili, introvabili, specialmente per il modello suo, che è, Redmi, Redmi 10A, dovrebbe essere una cosa del genere, non c'è scritto, Redmi 10A, cioè, aveva fatto giusto, e, nera era finita, stavano restando anche gli ultimi pezzi, di questa, ho preso a blu, ma è un bel blu notte, questa l'ho pagata, allora, costava 3 euro e 75, scusa, costava 3 euro e 75, l'ho pagata 2 euro 84, che lui ha una cover, presa dai cinesi, che non va bene per il suo modello, è una cover tipo, generica, standard, e quindi, ha tutti i tasti, sfasati, quindi, quando schiacci, non sai cosa stai schiacciando, orribile, ma, gli avevo detto, te la prendo là il nonno, voleva prendersela subito, non l'ha voluto aspettare, e si è tenuto con la coveraccia lì, che non riesce neanche a schiacciare, dà la sua protezione, carina, c'è pure l'aggetto qui, penso di aver dovuto fare 40.000 tagli, perché sta sbattendo qualsiasi cosa al vicino, è impazzito, il signor SMR mi può capire, e quindi niente, è perfetto, adesso non può più rompere, le balle, perché nonostante avesse deciso lui, di non acquistare una cover giusta, era colpa mia, perché ogni cosa che succede nel mondo, è sempre tutto colpa mia, a detta sua, quindi, quindi poi non dite che io non ho pazienza, perché io ho tanta pazienza, ok, e quindi le regalo, le regalo questa, le regalo gli occhiali, poi, questo va di pari passo, con uno stampo che ho acquistato per la resina, che bella con questa cover nuova, mi sembra di avere un telefono nuovo, set di 100 pezzi di attrezzatura, per la produzione di portachiavi, mi piace questo titolo, colore vero, costavano 3,10 euro, le ho pagate 1,88 euro, 100 pezzi, sono ottimi, che in realtà, non sono 100 pezzi, ma sono 50 pezzi, e 50 pezzi, perché sto dimostrando, sono 50 anellini, e 50 portachiavi, io devo fare anche un video dopo, ma mi sa che non ce la faccio, perché già sarà difficile terminare questo, con un 4.000 tagli, grazie vicino, allora, data l'esperienza dell'ultima volta, che ho rovinato uno stampo, perché ho utilizzato lo stossicadenti, per fare dei ghericori, e ho segnato tutto lo stampo, infatti non l'ho più usato, e l'ho usato solo quella volta, poi non l'ho più usato, però lo riuserò, e cercherò di fare magari, uno stato sopra trasparente, per togliere i graffi, ho acquistato, questo set di pennelli per nail art, costavano 2 euro, li ho pagati 0,76, sono 1,2,3,4,5, e sono questi attrezzini, con le punte sottili, con i pallini, insomma, mi serviva solo qualcosa, con la punta sottile, che avendo però il pallino, non va a rigare, non va a graffiare, il silicone dello stampo, e non lo userò per la nail art, ovviamente, questi ho visto che li utilizzavano, anche per le creazioni in resina, tipo per, le creazioni in fimo, scusami, in pasta polimerica, per arrotondare, per fare dei dettagli, sono anche carini, perché non so se si veda, sono tipo glitterati all'interno, penso che erano proprio fatti di resina, tra l'altro, hanno due punte, con diverse grandezze, su consiglio del mio follower, come pulisci tu gli occhiali, come pulisci tu gli occhiali Marco, ecco qua, ha detto che ha uno spruzzino, con acqua, e poco poco sapone, lo spruzza, e poi pulisce, mi sono comprato uno spruzzino, da borsetta, così la tengo in borsetta, se ho bisogno, l'utilizzo, perché non sempre, le salviettine puliscono bene, quando si è in giro, perché quando sono a casa, è chiaro, posso andare in bagno, ma quando si è in giro, questo costava, 0,50, l'ho pagato 30 centisima, e ci sta, è plastica, mannaggia, non faccio più unghie, le unghie, vabbè, questo, che è un altro unghiesino, per tagliarsi le unghie, o pellicine, che la volevo da tanto tempo, l'ho presa, che in realtà è utile anche per tagliare, i contorni della riesina, o il di uso, con anche il cappuccetto, eccolo qua, questo, però ha anche un buon pretto, costava, 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 due euro, l'ho pagato un euro e ventuno, c'è sempre sto centesimo di mezzo, mi fa ridere, ok, anche quelli, dovevano nasconderla, e poi, pezzi forti, abbiamo due stampi fotonici, che non vedo l'ora di andare a fare creazioni, da regalare un botto di gente, ti ricordi, tempo fa, che avevo comprato, non mi ricordo se su, sci, non su demo, i gettoni per il carrello, perché se tu non hai la moneta, però hai a disposizione col tuo moschettone, sempre un gettone, dai, inserire nel carrello, eh, ho trovato lo stampo per farli, e, è bello perché, intanto c'è scritto che, possono essere, eh, sia, eh, quelli per il carrello, oppure, anche, eh, ciondoli per cuccioli, c'è scritto, ma a me non interessa, eh, mi interessa il gettone per il carrello, infatti, alcuni sono tondi, altri sono, non sono tutti lisci, vediamo, i bordini, e, mi interessa che ne ho sia, eh, senza decorazione, ma ne ho anche con l'euro, la zampina, lo ying e lo yang, il coricino, il carrello, eh, gli altri non sono tondi, credo che se non sono tondi non entrano, perché deve entrare tipo moneta, quindi devo fare per forza quelli, quindi, eh, il gattino purtroppo non lo posso fare, il cagnolino, e la, eh, la farfallina non lo posso fare, ma comunque, mi interessa averne uno libero, senza decorazioni, che ci posso mettere quel che voglio, e quindi preparati, creatura, perché farò, farò un sacco di questi, eh, portachiavi, e, so già che li farò personalizzati per la mia famiglia, da regalare a compleanni, Natale, cose varie, e, perché è utile, ma personalizzato è ancora più bello, secondo me, a chi non ho idea di come regalaglielo, glielo faccio solo col carrellino, perché se uno non ha una personalità difficile, no? però ho già molte idee di preparare la stampa a computer, e andarla a stampare, e poi farò gli stickers trasparenti, fatti in casa, con, appunto, Star Wars, o, adesso dico Star Wars a caso, ma con un sacco di cose, posso fare anche i nomi, della persona che a cui andrò a regalarlo, e poi posso metterci glitter, posso metterci quello cacchio che voglio, perché, appunto, l'importante è che stia qua dentro, ecco, non vedo l'ora creatura di fare queste nuove creazioni, poi te le mostrerò tutte, poi se hai qualche richiesta, te lo faccio anche personalizzato, anche quello a coriccino si può fare con la lettera della persona che si ama, o anche da regalare, da dedicare, quindi, cioè, questa cosa mi è piaciuta tantissimo, e poi pezzo forte, cioè, qua mi andrà via un sacco di resina, ma chissene frega, l'ho preso apposta, l'ho preso sia da regalare, sia per casa mia, perché, eh, io mi farò Sam, e alla persona a cui lo regalerò farò Ray, che è il gatto della persona, visto così non avrei capito nulla, in realtà è, con tutti questi pezzi che si incastrano, poi l'uno con l'altro viene fuori un gattino decorazione da parete, e quindi poi andrà messa sulla parete, è un portacandele, un portacandele da appiccicare al muro, un candele, loro te lo vendono come, anche ho detto il prezzo dello stampo di prima, e lo stampo, quello portachiavi, diciamo, costava 2,80, l'ho pagato 1,59, e questo costava 5,50, l'ho pagato 3,73, e vediamo se c'è la foto di come uscirà, loro te lo presentano come portacandele, loro non insolano le candele e le pietre, però appunto uno poi alla fine ci mette quel che vuole, se vuole metterci una piantina, se vuole metterci anche niente, comunque mi piace, perché appunto è una decorazione per parete, però anche mensolina, ce n'erano un sacco di altri tipi che mi piacevano, però per adesso ho preso solo questo, tra l'altro anche dei fori, dove puoi anche metterci delle collanine, farci passare altre cose, appenderci qualcosa, e se mi acquistate un po' di prodotti, io potrei pensare anche di acquistare anche gli altri stampi, perché c'è o se trovo un lavoro fisso, li prendo io e basta, ce n'è un altro con un serpente e le lune, le fasi lunari, e un altro con le fasi lunari e la falina, bello anche quello, però tra tutti ho pensato qual è quello che vorresti maggiormente a casa tua, che magari quello col serpente particolare, la falina, ma il gatto, il gatto piace a tutti, quindi c'è chi preferisce i cani, però i gatti in genere piacciono molto di più dei serpenti, ecco, o delle falene, e quindi poi è un animale mistico, è un gatto con la luna qui, con la pietra, le stelle, quindi cercherò di andare a riprodurre il, non so se fai il gatto nero, che è proprio da strega, o se rifare Ray, Ray è bianco e arancione, non sarebbe male neanche avere Ray a casa, cioè perché mi piaceva l'idea di, perché il gatto nero lo puoi trovare, magari bene o male ovunque, ma avere la riproduzione, tra virgolette, del tuo gatto, è ancora più figo, quindi personalizzato secondo me è meglio, quindi penso di andare a fare un gatto bianco e rosso, cercando di copiare più o meno le sfumature del gatto, dove ha i colori, e poi farò, anche se, o ti faccio un video dove ti mostro le creazioni già complete, o ti faccio un video dove le tiriamo fuori dagli stampini, e vediamo come sono venute, ti lascio a te la scelta, comunque magari farò un sondaggio, o decido io, vediamo, comunque questo video è arrivato, è lunghissimo, ma secondo me, perché dovrò fare 4.000 tagli, sarà a metà, sono molto soddisfatta di tutti questi acquisti, ovviamente non ti metto lo stampo di questi, ma tanto lo trovi, se lo vuoi, è che sempre resta il mio a copiare, ma la creatura, ha fatto una vita, e niente, spero che devo, che averti fatto rilassare, io come sempre ti auguro, buonanotte, buon relax, ciao creatura!